Buonasera alla provincia di Pavia all'ascolto ben ritrovati all'appuntamento con la voce pavese vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al nostro canale telegram digitando dal vostro browser t.me barra voce pavese per ricevere tutti i giorni gratuitamente direttamente sul vostro tablet smartphone o computer le nostre puntate vi ricordo anche che sul sito pavia1tv.it e sugli altri che vedete qui sotto è possibile seguire tutta la nostra programmazione tutta la nostra informazione per quanto concerne le trasmissioni di pavia1tv di informazione e intrattenimento vedere on demand sul sito pavia1tv.it tutto quello che vi siete persi vi ricordo anche di mettere un bel like e di mettere un condividi la nostra informazione libera gratuita e condivisibile senza restrizioni si alimenta soprattutto di quello allora una tv dalla parte della gente una tv dalla parte anche dei lavoratori già sono tante le difficoltà in questa fase condizionata dall'ondata pandemica per chi si trova a dover lavorare i lavoratori pendolari della provincia di pavia non hanno davvero pace non hanno pace perché oltre ai disagi ai ritardi e ai problemi che solitamente ci sono sulla nostra rete in particolare per i pendolari della lomellina che stanno addirittura peggio degli altri adesso arriva dopo l'ondata legata ai contagi legata alle quarantene che ha fatto mancare personale viaggiante che ha fatto cancellare tanti treni a Trenord adesso arriva lo sciopero ebbene sì lo sciopero ne sentivamo la mancanza no? Un bello sciopero che domani bello per modo di dire porterà nuovi problemi sulla rete ferroviaria dalle nove alle tredici di domani venerdì quattordici gennaio è infatti previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell'infrastruttura ferroviaria ferrovie nord SPA e che potrà generare ripercussioni anche pesanti sul servizio saranno interessati treni regionali e suburbani circolanti sulla rete di ferrovie nord che potranno subire ritardi e variazioni coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna, Milano Centrale Milano Porta Garibaldi Malpensa Aeroporto e la S50 Malpensa Aeroporto Bellinzona nessuna ripercussione a quanto si annuncia per i treni circolanti esclusivamente sulla rete ferroviaria RFI mentre saranno possibili ripercussioni nei tratti e gestione sulle di uno saranno Milano Passante Lodi S4 quel passante che congiunge Camnago a Milano Cadorna la S9 la Saronno Seregno Milano Albairate la S13 Milano Bovisa Pavia in alcuni casi saranno istituiti autobus sostitutivi a Milano Cadorna per i soli collegamenti aeroportuali di Milano Cadorna Malpensa Aeroporto che partiranno da via Paleocapa 1 maggiori dettagli sono disponibili secondo quanto abbiamo raccolto seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real time tramite l'app di Trenord o nelle pagine di direttrice del sito internet www.trenord.it ma non finisce qui perché ci sarà un effetto domino sono infatti ipotizzabili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria anche a conclusione dello sciopero permangono inoltre le riduzioni al servizio dovute alla pandemia allora parliamoci chiaro ma noi di questo passo dov'è che vogliamo andare e arrivare no? cioè anche qui in questo momento era proprio necessario quando tutta Italia tutta la Lombardia sono in emergenza si parla di una contagiosità molto alta qui per fortuna non coincidono morti nel senso che in questa fase il covid fa ammalare ma non uccide non è così mortale non è la carica virale non è così alta da mettere a rischio di vita le persone sane in particolare quelle giovani le fasce fragili o chi ha altre patologie invece deve stare accorto ma il tema è che chi usa i treni lo fa spesso in provincia di Pavia per superare delle grandi lacune infrastrutturali abbiamo delle strade che spesso impongono delle percorrenze con tempi molto più grandi rispetto a quelli che sarebbero i tempi canonici allora i viaggiatori i lavoratori che tra l'altro devono fare tanta strada perché in provincia di Pavia c'è poca occupazione andrebbero tutelati come si fa a tutelarli garantendo servizi regolari servizi efficienti magari addirittura anche più treni invece già sono stati tagliati i treni perché il personale è in quarantena e ha difficoltà diciamo a prendere servizio anche in virtù delle norme che ci sono che sono stringenti e sono da rispettare la legge non ammette ignoranza ma dall'altra parte stupisce che con l'entrata in vigore del nuovo super green pass rafforzato con l'obbligatorietà dell'FFP2 con tutte le cose che si sono dette che sono per lo più incontrollabili lo vogliamo dire che è incontrollabile quello che hanno stabilito tant'è vero che nelle ultime ore si è fatta anche marci indietro rispetto a determinati controlli perché tanto al di là del dichiarare che si faranno i controlli quei controlli lì non possono essere fatti in tutte le fasce orarie su tutti i mezzi di trasporto eccetera eccetera comunque al di là di pensate ripensamenti legati al fatto legati al fatto probabilmente che non c'è una serietà nella linea di azione del governo quello che è importante dire è che non era il momento di fare nessuno sciopero alla ripresa post natalizia post epifania della normale attività lavorativa non era il momento di fare degli scioperi per mettere ulteriormente a disagio quei poveretti che devono tutte le mattine svegliarsi all'alba e tornare a sera inoltratta per andare a lavorare non era il momento ed era ed era anzi il caso fatemelo dire di imporre il il precetto di obbligare ad andare a lavorare i pochi rimasti i pochi che sono rimasti anni allora c'è un problema interno a una società Trenord che tra l'altro ha fatto anche notevoli investimenti negli ultimi anni nonostante le ristrettezze il taglio dei trasferimenti e quant'altro però se ci sono delle problematiche interne in questo momento non è il caso di far pagare il prezzo a lavoratori pendolari e studenti che usano i treni che usano i treni per spostarsi più che più che altro perché c'è una rete viaria assolutamente satura soprattutto nelle strade extraurbane quelle strade che servono anche per arrivare a prendere le autostrade ma a prescindere da ciò gli abbonati che vanno a lavorare che vanno a studiare ma secondo voi dovevano ricominciare l'anno oltre che con la FFP2 anche con lo sciopero ma lo sciopero è sacro è sacro santo però è sacro santo anche il diritto di vivere di queste persone che già subiscono ritardi che già si sono sentite dire che a causa dell'alta contagiosità di questa variante Omicron molti treni erano stati soppressi e andiamo avanti con le sorprese negative senza che comunque si faccia abbastanza per tutelare questi lavoratori e questi studenti poi alla fine cioè per forza che cresce la sfiducia per forza che cresce la rabbia la frustrazione le vite sono complicate sono complicatissime da due anni e passa questa parte il covid ha creato problemi nelle vite di tutti giustamente i lavoratori avranno delle rivendicazioni avranno anche delle forze sindacali che potranno portare sui tavoli di contrattazione e di negoziazione le questioni che ci sono si investa la politica del problema ma non continuiamo a far arrivare degli tsunami in questa fase qui a chi deve lavorare e a chi deve studiare a chi deve spostarsi semplicemente per vivere speriamo che prevalga il buon senso e speriamo che domani ecco i disagi siano quanto più contenuti possibile poi c'è un altro discorso legato al fatto che lo sciopero è anche imprevedibile quindi le informazioni anche che arrivano tramite l'ufficio stampa di Trenord che con cui diciamo ci siamo interfacciati sono viziate dal fatto che nessuno può prevedere prima cosa accadrà dopo quale sarà la percentuale di adesione a questo sciopero altro errore perché il discorso è anche quello che qualcuno si potrebbe trovare a riuscire in qualche modo ad arrivare ma non riuscire poi a tornare a casa altra cosa ghiacciante è che come sapete sulla rete ferroviaria si crea un effetto domino se in determinate fasce orarie qualcosa va storto a livello di ritardi di percorrenze di orari eccetera di alcuni convogli quelli successivi possono subire ritardi e o cancellazioni veramente era necessario fare questo sciopero in questo momento storico viene da farsi qualche domanda e la risposta ce la darà il tempo io credo non sia giusto continuamente condannare a questo calvario i viaggiatori pendolari i viaggiatori